Mentre a Milanello si continua a lavorare per migliorare i risultati in Serie A, per sorprendere ancora di più in Europa, Paolo Maldini, Enrique Massara e Gufri Moncadà stanno lavorando con grande unione di intenti, con grande professionalità per rinforzare il reparto offensivo. Perché il Milan ha una lacuna importante lì davanti? Perché i numeri tolto Olivier Giroud e Raffaele Aos sono numeri deludenti. Numeri che non vanno bene, che non sono in linea agli obiettivi di un grande club come il Milan. E quindi il Milan, oltre che per questo fattore, quindi un fattore proprio legato alle statistiche, i numeri e un fattore anagrafico, perché lo sappiamo, non vogliamo essere ripetitivi, Giroud, Ibrahimovic hanno ormai una certa età. Il Milan, Paolo Maldini, Enrique Massara e Gufri Moncadà stanno lavorando alla ricerca di un profilo, di un profilo giovane, dal grande futuro, con costi accessibili e che possa nel minor tempo possibile anche esplodere, esplodere con la maglia rossonera e contribuire in maniera attiva ai successi del futuro rossonero. Un attaccante dinamico, un attaccante giovane, un attaccante che sappia fare la prima punta, ma che sia un giocatore anche che, un attaccante moderno, che sappia dialogare anche con gli altri. Ecco il profilo, la caratteristica che deve avere l'attaccante per il Milan di Pioli, il Milan del futuro. Ci sono stati tanti nomi, abbiamo già parlato di Okafor, del Salisburgo, abbiamo parlato di Baloghan, dello Stai de Remy, che gioca in Francia, il Ligan, che è un marcatore importante, terzo marcatore del campionato francese, di proprietà dell'Arsenal. Ora parliamo di Retegui, giocatore che è in forza al Tigre, 23enne, è un attaccante italo-argentino, è un attaccante che ha sorpreso, che piace anche la nazione italiana, Roberto Mancini infatti lo ha convocato per la prossima partita e per i prossimi impegni. È un giocatore che sta facendo molto bene in patria, che sta facendo molto bene in Argentina, e quindi potrebbe essere quel profilo, un profilo poco conosciuto ancora dai grandi club europei, un profilo che ha una clausola rescissoria di 18 milioni di euro e quindi piace. La dirigenza rossonera lo sta monitorando, lo sta valutando, proprio gli impegni con la nazionale italiana di Roberto Mancini può in qualche modo rappresentare un modo, un'opportunità per visionare anche da vicino il calciatore, per capire meglio le sue caratteristiche, il suo modo di approcciare gli allenamenti, le partite, il suo modo di vivere quindi da calciatore, da professionista. E quindi in questo momento anche il profilo di Matteo Retegui, che Olda è autore, sta facendo, ripeto, una stagione importante con la Maglia del Tigre, rappresenta un profilo che piace. Oltre a questo giocatore qui, quindi abbiamo parlato di Okafor, abbiamo parlato di Baloghan, abbiamo parlato di Rete Gui, c'è anche un altro giocatore. L'ho riporto oggi, la Gazzetta, non lo conosco molto bene, si chiama Jo Pedro, che non è il giocatore che era il Cagliari per intenderci, un classe 2001 che emita in Championship, quindi in campionato di Serie B inglese, nel Watford, che è un giocatore molto tecnico, mi dicono, un giocatore che lì davanti sa ricoprire più ruoli, un giocatore che è molto rapido, molto tecnico, molto abile anche nell'attaccare alla profondità, è un giocatore che quest'anno in Championship, quindi nella Serie B inglese, ha già realizzato nove reti. Concludo questo video con una piccola riflessione. Oggi leggevo sotto i commenti della Gazzetta, sotto altri quotidiani, molti tifosi che dicevano, sì, andiamo a prendere un attaccante dalla Serie B inglese, se un giocatore sconosciuto in Milan ha bisogno di altro. Allora, chiaramente, se dovessimo scegliere tra Benzema e lui, se avessimo l'opportunità, un giocatore che è Benzema farebbe fare subito il salto di qualità. Però abbiamo visto, e lo stiamo dimostrando in Champions League, magari anche con un po' di fortuna, ma la fortuna te la devi creare, come lo spendere tanto non sia sinonimo di successo, non sia sinonimo di trofei, ma ci serve programmazione, strategia. Malik Chao è arrivato, ricordiamo, da un club di Serie B, la Serie B tedesca, dallo Schalke, è un rendimento altissimo. Quindi bisogna fidarsi di chi, attraverso i dati, le partite, le partite che vengono visionate sia da remoto, ma sia proprio lì sul campo, e che conosce bene le caratteristiche del giocatore. Quindi io mi fido dell'area scouting grossonera, che negli ultimi anni ha fatto davvero molto bene. Quindi che sia Joao Pedro, che sia Rete Ghidella e Tigre, che sia un altro profilo sconosciuto, ecco, mi fido dello scouting, mi fido dell'organizzazione sportiva, dell'area tecnica sportiva del Milan, perché i risultati parlano, chiaro, perché i risultati parlano di un club efficiente, un club moderno, un club all'avanguardia, che attraverso i dati, i numeri, le statistiche, che attraverso sistemi all'avanguardia di ricerca del talento, sta trovando veramente giocatori ottimi, giocatori forti, col grande potenziale in giro per tutto il mondo. Fatemi sapere, amici, di Rubrica Rosso Nera, e se volete segnalate anche voi nei commenti qualche profilo, un giocatore che vi piacerebbe particolarmente lì davanti, e come sempre, cliccate like e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.